In settimana due mamme che piangevano in studio dalle frasi che le sono state dette dopo la nascita del bambino. Ricordiamo che sempre, ma questo è un appello che faccio a tutti, quando uno è in situazioni di fragilità, è più sensibile e magari certe frasi che normalmente magari accetterebbe o ci farebbe una risata vengono vissute male. Questo appello lo faccio a tutti, ma soprattutto agli operatori sociosanitari. Questo è un discorso che si fa da tempo, mi ricordo quando ero all'ordine dei medici, di quando arrivavano le segnalazioni contro i sanitari. La maggior parte delle segnalazioni erano perché la gente si era sentita o era stata trattata male. Ricordiamoci tutti che se io sono da questa parte della sanità io ti curo, però prima o poi si passa dall'altra parte perché ognuno di noi nell'arco della vita avrà bisogno di assistenza e di cure, avrà bisogno di passare dal ruolo di operatore sanitario che cura a malato oppure non capita a lui, non capita ai propri cari. e in quei momenti ti rendi conto di come c'è bisogno di umanità, di sensibilità, basta un sorriso per cambiarti la vita. E mi ricollego alle neomamme, dopo la gravidanza, dopo che è nato un bambino, un momento bellissimo, però la mamma è più vulnerabile e sentirsi dire signora sbaglia ma in malo modo, ci sono tanti modi di dire le cose, quindi uno può effettivamente vedere che una mamma fa qualche cosa che secondo lui sbaglia, beh ci sono modi di dire, signora scusi fa così ma forse è meglio far così, invece di dire sbaglia o ancora peggio, una frase che ha fatto piange alla mamma, signora se fa così, se suo figlio muore è colpa sua, ma che modo è di comportarsi? Ma questo lo dico per tutti, quindi dalla vicina che incontra per casa, che parla senza accendere il cervello, ma anche agli operatori sanitari. E la preghiera che faccio a tutti, soprattutto alle neomamme, cercate di, quando vi dicono qualcosa così, di non pensarci troppo, di parlarne con i vostri cari e di parlarne poi con il pediatra, perché ricordo una frase di una ragazzina che si è suicidata per il ciberbullismo, le parole fanno più male delle botte, quindi state attenti perché le parole sono pietre che non tornano indietro e che, anche se chiedi scusa, il danno lo hanno fatto. E in certi momenti è veramente disdicevole, poco umano parlare in quel modo a persone in situazioni di fragilità o di di vulnerabilità.